La Giunta regionale ha approvato il protocollo che oggi viene qui siglato e promosso dalla FIDAPA. Riteniamo che sia uno strumento di conquista a livello anche internazionale perché promuovere la parità di genere e la tutela delle bambine è fondamentale. C'è poi una parte importante dedicata anche alla salute delle bambine e la capacità quindi di dare delle risposte con la medicina di genere. Sono principi che sembrano normali nel nostro paese anche se ogni tanto c'è qualche eccezione anche da noi ma che in tante parti del mondo invece non sono così scontati.